ma comunque valida per compensare dal punto di vista morale un'eliminazione forse imprevista. Real Sociedad Sporting Lisbona, a San Sebastiano è difficile passare, la Real Sociedad va in vantaggio con questa cannonata di Laragnaga nel corso del primo tempo su calcio di punizione appoggiato da Lopez Uffarte, 1-0, grande esultanza di questa formazione che raggiunge per la prima volta la semifinale di un torneo continentale, molto bello il secondo gol nella ripresa realizzato da Vaquero, l'azione proposta da Zamora in area, vediamo che Zamora si fa a largo e poi tocca a Vaquero, guardate la finta dell'attaccante che inganna il difensore avversario e poi batte a rete di destro, rivedremo anche questo gol, il gol 2-0 della Real Sociedad sullo Sporting di Lisbona, il gol decisivo che qualifica la formazione spagnola.